E' stata una bravata, non volevamo fare niente. Con queste parole interrogate dagli agenti della squadra mobile aquilana si sono difesi quattro ragazzi di 14 e 15 anni denunciati dopo un blitz nella scuola media Dante Alighieri all'Aquila. I ragazzi, i due aquilani, un macedone e un romeno, tutti di buona famiglia, hanno spiegato che il giorno dopo erano tornati davanti alla scuola per scusarsi con quei ragazzini più piccoli che avevano terrorizzato e picchiato. Un tredicenne è stato malmenato e un altro ha riportato la microfrattura di uno zigomo. La polizia però non crede fino in fondo a questa giustificazione e ha disposto le denunce inviando gli atti alla procura per i minorenni. I ragazzi che frequentano tutti il primo anno all'ITIS sono entrati in classe in due intorno alle 8 e 30 mentre altri due sono rimasti a fare da palo. All'inizio hanno solo impartito ordini del tipo state zitti o state seduti fino a quando un tredicenne li ha invitati ad uscire. A quel punto è scattata l'aggressione. Subito dopo i ragazzi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sono stati rintracciati grazie alla collaborazione fornita dai ragazzi, ha detto il dirigente della mobile Maurilio Grasso, e alle indagini condotte su Facebook. Una volta concluse le indagini potrebbero essere emesse o meno misure per i giovani e potrebbero essere coinvolte anche assistenti sociali per una serie di controlli per quanto riguarda l'ambito penale. Nell'ambito civile c'è invece il rischio di una causa per risarcimento danni che potrebbe essere intentata dalle vittime degli atti di bullismo. Intanto è stato definitivamente accertato che il quinto giovani su cui sono stati svolti accertamenti è strano ai fatti e non ha partecipato al blitz. Anche per i bidelli, oggetto di approfondimenti in una prima fase per valutare se ci fossero state omissioni, non ci saranno strascichi. Dalle testimonianze del dirigente d'istituto Giuliano Tomassi emerge tuttavia che la scuola ha carenza di personale e non c'è un collaboratore scolastico per ogni piano come sarebbe invece obbligatorio.